E' il nuovo pensionante, sono un attore, Leo Gullo. Io? Io Gianluca Bertolazzi, io? Io sono Gianluca Bertolazzi. No. No! No! Guardi che non c'è solo lei in questa pensione. Si può sapere chi era? Le pompe funebri. Chi ha lasciato il telefono staccato? Devo averlo lasciato io, stavo parlando con la mia casa discografica quando... Tu? Sei stata tu? Ma guarda se per una simile cretina un artista come me deve perdere un contratto con l'Opera di Vienna. Ma perché l'hanno cercata? No, ma avrebbero potuto farlo. Sappia che la ritengo responsabile del disservizio telefonico di questa cosiddetta pensione. E se per colpa di qualche aspirante Orietta Berti dovessi perdere il mio contratto, la citerò per danni, morali e materiali. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Ja? Ce l'è pronto? Eh? L'Opera di Vienna. Ja? Ich bin Gianluca Bertolazzi. Ja? Was habe ich gesagt? Vienna? Stadzoper? Ja? Ich komme in Vienna vor Arbeiten. Vor eine Woche. Ja? Dankeschön. Wer? Hanno telefonato per voi due dalla televisione. Vi aspettano domani, a Luna, allo Studio 3. Sai Doris, tra Massimiliana e la tua amica Marina c'è dell'evidente tenero. Stanno bene insieme. Sono carini, no? È lui, il fratello del re. Doris, ti scongiuro, presentamelo. Buongiorno, Doris. Enchanté de vous voir. Buongiorno, Albert. Il principe Carlo Lovatelli. Ciao. E la principessa Domitilla Massimo. Enchanté. Andiamo, hanno messo il twist. Su, non fate pallosi. La principessa di Calabria e il principe Alberto. Allora, mi fai ballare o no? Allora, sì. Doris, non mi chiedere il perché, ma sento che l'incontro è stato memorabile. Memorabile. Prego, scusi se l'abbiamo fatta venire di fretta, eh? Non importa. Si accomodi. Noi abbiamo dovuto arrestare un rumeno che lei certamente conosce. Si chiama Ivan Muntiano. Sì, lo conosco. Sì, ecco, infatti ci risulta lavorare da lei all'ufficio consegne. Questo è il permesso di soggiorno che lei gli ha fatto concedere. Sì, ma che ha fatto? Ecco, no, è proprio questa la cosa piuttosto sorprendente, perché costringeva dei poveri bambini a chiedere le lemosina. Io non lo sapevo. No, no, ma si figuri se noi pensiamo che una persona per bene come lei possa avere a che fare con una storia come questa. Francamente ci risulta strano che un uomo consegni i computer di giorno e poi di sera sfrutti i bambini. Magari lei così, riguardo questa brutta storia, ci può dare dei dettagli più precisi. Beh, Ivan non lavora più da me ormai da qualche mese. No, no, non si preoccupi. Il mio collega ha da fare. Poi è inutile, no, che facciamo le domande in due. No, niente, dicevo solo che Ivan si è licenziato qualche mese fa. Io non so che cosa abbia fatto dopo. Ma questo rende tutto un po' più chiaro, però mi tolga una curiosità. Se un dipendente a cui si è fatto avere un permesso di soggiorno si licenzia, bisognerà pure avvertire qualcuno, no? Cioè, voglio dire, ci sarà un ufficio competente. Beh, in realtà sì, ma se per ogni dipendente che assumo dovessi fare sempre tutte queste pratiche, non avrei più il tempo di lavorare. Ah, beh, certo. No, no, capisco, lei è un uomo molto impegnato. No, capisco, lei è un uomo molto impegnato. No, capisco, lei è un uomo molto impegnato. Sembra un cliente abituale. Non ti pare un po' strano? Uno che vende i computer e poi frequenta un internet point è sospetto di che è strano, no? Non sai che ti dico? Io chiamo l'ispettrice Panetta. La apra. La apra, non abbia paura. Io non capisco. Che vi fate vedere queste? Perché sono sue, non le riconosce. Quante volte le avrà guardate? Le abbiamo trovate nella sua posta elettronica? Voi non potete. Lei ha il coraggio di stabilire quello che possiamo e quello che non possiamo. Questa è l'autorizzazione del magistrato. Io sono sua amica, conosco il suo problema e posso aiutarla? Io voglio bene i bambini. Io non gli farei mai del male. Lo so, signor Cirillo. Io voglio solo che siano felici. Lo guardi. Le sembra felice. Lo guardi! Crede che questo sia un bambino felice? Io guardo solo le foto. Io non ho mai toccato un bambino. Io voglio bene i bambini. Lo so che lei non farebbe mai del male ai bambini. E' per questo che ci aiuterà a prendere quelli che sono cattivi con loro. Ci aiuterà, vero? Lui ha comprato questo materiale. Non so il suo vero nome. L'ho conosciuto su una chat. Il nickname che usa è Ezechiele. Che chat? Si chiama Perseo. E' stato questo Ezechiele a chiedergli di assumere nel suo negozio Ivan per fargli avere il permesso di soggiorno? La ricattava? Avrebbe detto tutto a mia moglie. Quindi lei tutto questo l'ha fatto solamente attraverso la chat? Lei non l'ha mai incontrato Ezechiele, neanche una volta, vero? Una volta ci siamo incontrati. Ma non ci ho nemmeno parlato. E' rimasto in macchina. Mentre io mi mettevo d'accordo con Ivan. Quale macchina? Una station wagon gialla. Rosa, mia moglie, non deve sapere niente. Prego, non ditele niente. Mi sento male. Mi sento soffogare. Soffogo. Mi sono andato un po' tardi. Forse è meglio se ci prendiamo un po' d'aglia, va? Guardi, questo è il bagno. Non può chiudersi. Ciao, Lucia. Oh, ma non ti sto vedendo più. Eh, troppo in picco. Infatti fino a un po' di tempo devo andare a trovare. Ciao. Signor Cirillo, apra la porta. Non può chiudere la porta. Signor Cirillo, apra questa porta. Se no, la devo sfondare. Forza. Signor Cirillo. Aiuto! Qualcuno mi aiuti, cazzo! Chi è? Ehi. Guido. Come sei cambiata. Sei ancora più bella di quanto mi ricordassi. Guido, dimenticati di... Aspetta, Liuca, non fare così. Per favore. Ma chi ti crede di essere? Davvero pensi di entrare e uscire dalla mia vita come vuoi? Io sono tornato in quella discoteca, ma mi hanno detto che non lavori più lì, quindi... Adesso dimenticati anche a dove ho detto. No, per favore, lascia che ti spieghi quello che è successo. Riuca! Ma chi è? Ma... L'ho capito. Meno male. Ne vuoi ancora? No, grazie. Lo sai che Andrea è partito? Sì, è andato a Marsiglia, vero? Sì. Voleva effettuare personalmente dei controlli su delle analisi. Scrupoloso come il solito. Ma sai benissimo che sono una scusa per stare lontano qualche giorno. È orgoglioso come un pazzo, anche se cerca di non farlo vedere. Ma ha sofferto molto per come è finita con te. Mi dispiace davvero. Comunque non è stata colpa tua. È una cosa che succede a milioni di persone tutti i giorni. Io sono stanca di vedere soffrire le persone che non vengono bene. Stamattina ho litigato in un uomo con Sofia. È come se lei fosse gelosa di me in questo momento. Allora? Dov'è? È nel camerino. Ma... Sei sicuro che si può fare? Le hai parlato? Non ce n'è bisogno. Siamo d'accordo che... ...quel piccolo debito me lo cancelli? Se la ragazza vale solo la metà di quello che mi hai detto... ...non hai più nessun debito con me. No, no, me ne occupo io. Lei è un bucato. Io va. Chi è lei? Ci battene! Ma che sta succedendo? Roberto, quell'uomo, quell'uomo è entrato. Mi ha aggredito. E lei chi è? Lui, lui è un mio amico. E lui che mi ha aiutato. Grazie. Grazie a lui. Quell'uomo è un suo amico. Quanto a lei... ...ti ricordo che i gentiluomini, di solito... ...non usano le donne per pagare i propri debiti. Di cosa sta parlando? Scusami, io... ...non mi sento molto bene. Credo che andrò a casa, scusa. Perché sei matta? Guarda che siamo già in un ritardo mostruoso. Non mi sento bene. Senti, andiamoci piano con queste aeree da prima donna, eh? E qui dai tuoi capricini abbiamo tutte le tasche piene. Chiaro? Pensavo l'avessi capito che in questo ambiente... ...ha bisogno di dimostrare una certa flessibilità reciproca, altrimenti non si dura. L'ho capito. E non mi piace. E da quando? Da adesso. Ma bravo. Vattene, vattene! Tornatene in Russia, che l'aria italiana ti ha dato la testa! Luigi! È stata segnalata all'ufficio postale di Moiano una busta sospetta indirizzata alla Morressi. Andiamo. La busta è rimasta incastrata nella macchina che smista la corrispondenza. Di là ci sono quelli del RIS che se ne stanno occupando. La lettera da dove è partita? È stata imbucata in una cassetta alla periferia di Perugia. Nessun esposivo. Solo questo proiettile. Non sembra di grosso calibro. Va bene, grazie, direttore. Ci faremo risentire. Arrivederci. Arrivederci. Perdonami, ma anche se so bastardi, gli uomini mi piacciono ancora. Addio. No! No! Signorina Nella! Signorina Nella, mi scusi, è per l'affitto. La sua amica aveva detto che mi avrebbe pagato oggi. Io non c'ho più una lira. Si è portata via tutto. Ah, capisco. Io però come faccio con l'affitto, eh? Vogliamo chiamare la polizia? No, no. La polizia no. Vi prego. Non possiamo trovare... un modo per metterci d'accordo. Beh... magari un modo... lo troviamo. Professore, lei aveva in cura anche il fratello di Marcello? Certo. Seguo la famiglia Bresi da parecchi anni. Di che cosa soffriva Luigi? Era affetto da anemia aplastica, come Marcello. E come ha reagito la madre quando le ha detto che Marcello aveva la stessa malattia del fratello? Simona è una brava donna, ma è anche molto fragile. In un primo momento ha cercato di negare la realtà. Mi ha detto che non intendeva sottoporre Marcello alle terapie prescritte. Forse non voleva rivivere quel che aveva già provato durante la malattia di Luigi. Nove anni fa però dimostrò di avere un grande spirito di sacrificio. Simona e Fernando avevano sottoposto Luigi a quattro trasfusioni. Avevano girato mezza Italia alla ricerca di un midollo compatibile. Era stato tutto inutile. Perché, per ironia della sorte, Luigi era morto proprio il giorno prima dell'operazione. Poveretto. Quindi adesso Simona stava abbandonando Marcello al suo destino? Vede, marito e moglie si fanno forse insieme. Ma una persona sola è facile che getti la spugna. Anche quando c'è di mezzo un figlio. Forse Simona era proprio arrivata a questo punto. Marcello era grave come Luigi? Il suo tasso di omoglobine era molto basso, il che mi dava non poca preoccupazione. Ma io credo che se fosse stato sottoposto alle cure adeguate, poteva farcela. Viste esplicite della polizia? Si, figuri. Capisco benissimo. Prego. Sicuro che non manchi qualcosa? No, è tutto a posto. Non manca nulla. Io non capisco. Ho già controllato, no? Sono costernato. La polizia vuole che siano ricontrollate tutte. Prego. Grazie. Tutto a posto? Ne assicuro. Ve l'ho detto, è tutto a posto. Perfetto. Quindi lei dice che nella cassetta non manca niente, giusto? Che nessuno ne ha toccato il contenuto. È così? Lei ha sentito? Sì. Ora, se permette, controlliamo noi. Ecco, vede? Questo è un mandato del giudice per sequestrare tutto il contenuto della cassetta. Se vuole leggere. Permette, dottore? Prego. Ricco. Ricco. Buon immagini. Grazie a tutti. Va bene ragazze, per oggi basta così. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao Zanna. Ciao. Tu che fai? Non vieni? Volevo riprovare ancora un po' quella routine. Ok, però non ti stancare troppo. Ciao. Ciao. Che succede? C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Grazie a tutti. Elisa! Elisa! Margarita! Sono io, Marco! Marco, mi hai fatto prendere un colpo! Margherita, l'hai vista? No, credevo che fosse con te. Aspetta, vado a riaccendere le luci. Ma cosa? No, non so. Quindi quando le luci si sono spente lei era fuori a fumare? Sì, sto cercando di smettere. Ne fumo solo sei al giorno, orari stabiliti. E quella delle dieci era l'ultima della giornata. Qualcuna conoscenza di questa sua abitudine? Di certo non è un segreto. Ispettore. Un attimo. Era qua fuori. Grazie. Questa è una delle sue? No, io fumo un'altra marca. Va bene, Prandi. Può andare, grazie. Ciao, Elisa. Scusa, ragazzo. Ragazzo? Che c'è? Dice a me? Sì. Ti sei dimenticato quelle? Questa è? Questa è qui? Scusa, eh. Tiens, la nico ST, continua a tour, eh? Eh, vadoveva! Scusa, ragazzo. Grazie a tutti